Pubblicato dal Comune di Brindisi un avviso pubblico destinato alle attività commerciali di beni alimentari e di prima necessità per individuale coloro che sono disponibili alla vendita mediante buoni spesa previsti dal Governo e rilasciati dal Comune di Brindisi ai cittadini in stato di bisogno. Un primo passo in ottemperanza ai fondi messi a disposizione da parte del Governo. Avviata intanto anche una rete di solidarietà con Caritas e Croce Rossa tramite un protocollo d'intesa per strutturare gli aiuti alle famiglie più in difficoltà. Nelle prossime ore uscirà un secondo avviso con una modulistica che chi è in difficoltà deve compilare e poi ovviamente queste domande saranno con un'istruttoria molto breve, molto semplice, vagliata e verranno ovviamente poi forniti a chi è in difficoltà questi buoni. Quindi nell'arco di pochi giorni, due o tre giorni io penso potremo essere già operativi. Questo significa, ripeto, microaiuti che pensiamo possono andare fino a un massimo di 200-250 euro perché immaginiamo una platea molto vasta, avendo a disposizione questi circa 644.000 euro. Questo come disposto sostanzialmente in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del Presidente del Consiglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.